Bentornati cari amici di Radio Pugginio NER. Ora facciamo un breve viaggio perché ci stiamo avvicinando all'estate e come sempre ci sono un sacco di imprenditori che si lamentano perché non trovano i lavoratori. I imprenditori che si lamentano perché non trovano i lavoratori e dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare. Questo è il punto di vista di questi grandissimi imprenditori che probabilmente hanno capito che imprenditore significa imprendere a tutti i costi e senza scrupoli. Perché in realtà se andiamo a vedere gli annunci molti di questi imprenditori che poi si lamentano di non trovare i lavoratori e che i giovani non hanno voglia di lavorare cercano invece che i lavoratori degli schiavi. E quindi poi naturalmente vanno in tv e anche i politici quante volte l'abbiamo sentito alcuni esponenti soprattutto quasi sempre naturalmente quelli di destra dire che i ragazzi non hanno voglia di lavorare. I ragazzi non hanno voglia di fare gli schiavi che è un po' diverso. I ragazzi forse sono più intelligenti di prima non hanno voglia di farvi ingrassare senza guadagnare nulla. Innanzitutto la maggior parte degli annunci sono illegali perché ad esempio non puoi dire voglio cameriera. Cameriera no devi dire serve un cameriere maschio o femmina non poi non si può non si può in un annuncio mettere soltanto un sesso quello femminile perché se fate caso la maggior parte dei lavori che si trovano come barista cameriere perché tutti cercano la ragazzetta caruccia da mettere lì dietro il bancone capito per cui già questo è un reato. Per cui non rispondete agli annunci dove c'è scritto solo maschio o solo femmina perché così contribuite a fare un reato o meglio scusate per me è un reato probabilmente è soltanto un illecito nel senso una cosa che non si può che non è illecito fare. Ma nello stesso tempo sinceramente non so se sono previste multe ma so che questo non si può fare così come molti altri annunci in cui non c'è scritto nemmeno quanto ti danno non c'è scritto con precisione quante ore di lavoro dovresti fare. Ti dicono poi se fai abbastanza contratti addirittura vedremo che qualcuno a seconda delle recensioni positive o negative che riceve l'azienda premia oppure no i dipendenti insomma delle realtà sconcertanti assurde quelle che scopriremo tra poco. Dunque entriamo nel settore stagionale turistico e nella ristorazione italiana. Molti i segnali che emergono e ciò che scopriamo attraverso gli annunci che possiamo leggere e le esperienze dirette di tanti ragazzi è davvero sconcertante. Altro che i ragazzi non hanno voglia di lavorare i ragazzi non vogliono essere i vostri schiavi non vogliono farvi arricchire ingrassare sulle loro spalle. Perché un ragazzo o una ragazza poi molti di bella presenza perché a volte anche specificata a volte vengono scelte se voi vedete in certi alcuni centri commerciali in certi grandi negozi in certi supermercati in certi bar in certi ristoranti. Sembra proprio che ci sia una selezione tipo miss ristorante o miss barista. Insomma sembra che scelgano proprio delle persone di bella presenza, dei ragazzi di bella presenza però nello stesso tempo con uno stipendio da fame. Ecco ora è un ragazzo di bella presenza, una ragazza di bella presenza basta che va su internet in alcuni siti si mettano a vendere qualche fotina al mese e guadagnano molto di più che fare gli schiavi nella vostra attività. Per cui forse c'è da cambiare un po' il punto di vista perché la società si evolve, probabilmente i ragazzi sono più intelligenti di prima e non si lasciano schiavizzare più. Soprattutto molti sono indignati per il fatto che le selezioni dei dipendenti vengano fatte anche in base all'aspetto fisico o al fatto che siano maschi o femmine. E questo anche negli annunci, come dicevo, ed è illecito farlo, viene specificato spesso il sesso dei dipendenti che si trovano, che si vogliono, che si stanno cercando. La corsa verso la stagione estiva porta con sé una crescita esponenziale della domanda di personale qualificato e non bagnini, camerieri, baristi, receptionist e molte altre figure che sono richieste con urgenza. Io mi domando perché non ci pensano prima, sempre quest'urgenza all'ultimo momento. Tuttavia dietro questa richiesta si celano spesso condizioni di lavoro estreme, anzi troppo spesso, quasi sempre, e compensi inadeguati che suscitano giustificati timori e critiche. Soprattutto un tema di cui non parleremo perché non è specificatamente in questo episodio, perché non è il tema di cui stiamo parlando, ma voglio ricordarlo. Insomma, io la maggior parte dei lavori che ho fatto come cameriere e barista erano lavori in nero. Quindi lì la colpa è anche la tua, non lo so, a un certo punto, perché se c'è bisogno di lavorare, alla fine, dopo aver girato ovunque, ti attacchi a quello che trovi, no? In certi momenti della vita. Per cui ricordiamolo che la maggior parte dei ristoratori e dei baristi, almeno dalla mia esperienza, non penso che siano capitati tutti a me, e non girati, di posti nel centro Italia, almeno pagano molto spesso in nero. Ma nemmeno perché ce l'ho così tanto col fatto del nero, perché non è un problema a cui ho, nemmeno che ho così a cuore. Ma il fatto è che poi vedi questi personaggi, questi grandi imprenditori andare in giro con la grande macchinona, con il macchinone, hanno la bella villa. Sono tanto felici e contenti dopo aver evaso le tasse, dunque, e aver sfruttato dei ragazzi durante le loro stagioni. Non tutti, naturalmente, questo penso sia chiaro, l'abbiamo già detto, non tutti, ma una stragrande maggioranza. Poi spesso, perché possono agire così questi grandi imprenditori? Perché essendo grandi imprenditori, essendo persone che hanno i soldi nel paese, nella cittadina, nel posto in cui operano, naturalmente, sono rispettati, nessuno li disturba. Perché spesso magari sono anche traino per il turismo e nessuno li controlla. Per cui poi c'è chi può fare quello che vuole e poi magari quello più piccolo, il piccolo imprenditore, quello che fa fatica ad arrivare a fine mese, invece per uno scontrino lo bastonano. Funziona così. C'è chi può e chi non può in Italia. D'altra parte, la mafia non è solo quella palermitana, lo sappiamo bene. Immaginatevi una giovane ragazza di 24 anni, desiderosa di lavorare durante l'estate, che si trova a navigare tra annunci che paiono usciti da un racconto dell'orrore. Non si tratta solo di trovare un lavoro, ma di sottostare a turni massacranti e situazioni di spruttamento che mettono in discussione la dignità stessa del lavoro. A Napoli, ad esempio, si cerca disperatamente qualcuno per gestire prenotazioni e assistenza clienti con l'impegno di essere costantemente reperibili fino a sera. E il compenso? Appena 600 euro al mese, che potrebbero addirittura aumentare in base però alle recensioni positive ricevute. Assurdo, no? Questo modello di pagamento legato al feedback dei clienti solleva dubbi sul grado di autonomia e libertà concesso ai lavoratori e sulla possibilità di essere oggettivi nella valutazione delle prestazioni. A Rimini, la proposta per un barista prevede un'estenuante giornata lavorativa dalle 7 del mattino alle 19, con uno stipendio di 1200 euro al mese e una scarsità di giorni di riposo. Ciò solleva importanti interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compreso il diritto al riposo e alla salute. Ma non finisce qui. In Calabria, un barista è ricercata per un lavoro, una barista, scusate, è ricercata per un lavoro definito molto basico, con un compenso di 1200 euro netti al mese, ma con manzioni fortemente segregate per genere. Questo ci fa riflettere sulla persistenza di stereotipi, come dicevo, e discriminazioni nel mondo del lavoro che ancora oggi impediscono una piena parità di opportunità. E mentre si parla spesso dell'opportunità per le donne di fare carriera, noi potremmo parlare, nella stragrande maggioranza dei casi, invece del contrario, perché in certi lavori sono gli uomini ad essere svantaggiati. Proseguendo il nostro viaggio tra queste offerte, ci imbattiamo in annunci che mettono in luce una realtà allarmante. A Siracusa, ad esempio, una cameriera dovrebbe lavorare sei giorni su sette, dalle 17 alle 23, per soli 900 euro al mese. Questa situazione solleva serie preoccupazioni sulla sostenibilità economica di un lavoro così faticoso e impegnativo. La situazione si fa ancora più complessa considerando le località turistiche più costose, dove gli stipendi proposti sono del tutto inadeguati per sostenere il costo della vita. L'alloggio in molte di queste località, infatti, è un miraggio per chi guadagna 1.200-1.500 euro al mese. E questo pone un ulteriore stress sui lavoratori che devono affrontare la necessità di trasferirsi per lavoro senza avere garanzie abitative adeguate. Ci chiediamo quindi, dove sono finiti i diritti dei lavoratori? Com'è possibile che in una delle stagioni più vitali per il turismo italiano le condizioni di impiego siano così precarie e disumanizzanti? È giusto accettare un simile sfruttamento, soprattutto considerando l'importanza economica di questo settore per il nostro Paese? L'assenza di risposte chiare, l'opacità delle condizioni di lavoro, il menefreghismo della politica, perché se poi andate a sentire coloro che ci governano in passato non hanno fatto altro che lamentarsi per il fatto che i giovani non hanno voglia di lavorare. L'hanno sempre detto questi personaggi di destra, ma non mi sembra che stiano facendo qualcosa per risolvere i problemi, le cause per le quali non si trovano poi i lavoratori per la stagione estiva. Dunque una situazione critica che richiede una riflessione profonda da parte di tutti gli attori coinvolti, dai governi locali alle associazioni di categoria fino agli stessi lavoratori che meritano rispetto e dignità e quando è così ragazzi, questo rispetto e questa dignità prendetevela, cercate altri modi per guadagnare, non fatevi sfruttare. È importante portare alla luce queste realtà per promuovere un dialogo costruttivo e individuare soluzioni concrete. Speriamo anche che chi dovrebbe agire e dunque anche punire coloro che imprenditori, innanzitutto già mettendo degli annunci in questo modo praticamente stanno compiendo degli illeciti e soprattutto andare a controllare davvero quello che fanno i grandi imprenditori, non quelli piccoli. Qui si parla comunque sia di località turistiche, si parla di posti in cui girano tanti soldi. E' importante dunque che il futuro del nostro turismo non può prescindere dal benessere, dal rispetto delle persone che lo animano e poi insomma ormai siamo nel 2024, un po' di dignità ce la meridiamo. Concludiamo dunque qui questo piccolo approfondimento di Radio Pugginioner, vi invito a restare sintonizzati per altri aggiornamenti e riflessioni. Grazie per averci ascoltato, naturalmente potete andare a verificare di persona e vedrete centinaia, migliaia di annunci ogni giorno che vi fanno accapponare la pelle, non solo questi pochi esempi che vi abbiamo raccontato. Grazie per averci ascoltato, una buona serata e al prossimo episodio di Radio Pugginioner.